Le nostre vite cominciano a finire, scrive Martin Luther King Jr., il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. È difficile ignorare come purtroppo il nostro tempo nel corso degli ultimi decenni abbia prodotto una vera e propria cultura del pianisteo, del veleno e dell'imprecazione, dove si tende sempre a lamentarsi, a dare la colpa agli altri, ad accusare il mondo dei nostri problemi. Si tende a dimenticare che in realtà il mondo siamo noi, o almeno anche noi formiamo una parte, grande o piccola, della realtà, e che se cominciassimo ad agire noi come vorremmo vedere agire gli altri, le cose sarebbero ben diverse. Uno degli aspetti più sgradevoli della vita sociale è quello di assistere alla cattiva abitudine di coloro che si compiacciano di parlare male degli altri, di fare pettegolezzi, gettare fango sulla realtà, incuranti degli effetti prodotti. La persona che tende ad agire in tal modo non si accorge che così facendo appesantisce se stessa, l'atmosfera e l'ambiente in cui si viene a trovare. Per progredire nella vita diventa fondamentale abbandonare la tendenza plebea della lamentela e della critica, e abbracciare la visione umana e culturale, profondamente aristocratica, che invita ognuno a divenire strumento di bellezza e crescita per gli altri. Goethe giudicava profondamente volgare parlare solo di se stessi o dei problemi che ci affliggono. Un nostro problema non deve diventare fonte di afflizione per gli altri che ci ascoltano. Un conto è confidare ad un amico una sofferenza che ci affligge, ma ben diverso è ammorbare gli altri con le nostre sciagure, come se quest'ultimi non avessero già i loro problemi a cui pensare. Oggi, purtroppo, i più sono capaci solo a lamentarsi, e ciò rende la vita sociale in larga parte stressante, invivibile. Da questo atteggiamento possiamo dedurre come gran parte della sofferenza del mondo siamo noi stessi a crearcela con le nostre mani. A buon ragione, Nietzsche affermava che esistono solo interpretazioni dei fatti, affermando con ciò che ogni evento può essere interpretato in una duplice chiave di lettura. Se impariamo a coltivare i valori del bello, del buono e del vero, applicandoli alla realtà circostante, ci accorgeremo che non esiste nulla di davvero terribile e che il male che vediamo nelle cose è, molte volte, proiezione del veleno che richiamo in noi. Chi vive in pace nel mondo emana pace e amore verso la terra e tutti gli esseri, divenendo uno strumento di armonia per chiunque avvicina. Incontrare e frequentare una persona deve tornare ad essere un privilegio, un momento di quiete dalle pesantezze della vita ordinaria. Oggi più che mai rimane fondamentale isolare i violenti, gli attacchi a briche, i provocatori di professione, le persone volgari, i superbi, chi mira la vita con rabbia e risentimento, chi si compiace nel parlare male degli altri, in sintesi, coloro che sono capaci solo di esprimere i lati più bassi dell'agire umano. Coltivare i valori del bello, del buono e del vero significa far tornare l'essere umano a costituire una ricchezza per la terra e non una costante fonte di problemi, come oggi sembra costituire. Se madre natura avrà compassione di noi, impariamo a dimostrare a noi stessi che meritiamo la sua compassione, donando a tutti pace, armonia e amore. Tutto ciò non è buonismo, ma capacità di alleggerire la vita dalle scorie che noi stessi produciamo, imparando a vivere sereni.